ciao a tutti per questo nuovo gioco di magia molto bello secondo me ci vorrà farò una sparizione e un ritrovamento impossibile uno spettatore mi ci stopperò quando vuole tipo qui e ci ricordiamo della prima carta re di quadri una carta molto bella a mio parere perché fa parte della scala reale guardate lo vedo mettere più o meno in mezzo al mazzo dopo un po di carte è bello sapete che quando il re di quadri sale quando meno si aspetta sempre è una gran figata in pratica poi ora pensate è una paura se lo scuola ma è vero sono veloci con le mani sono veloce di fatti o adesso c'è il re di quadri che vado a lanciare di faccia in mezzo al mezzo difatti se noi guardiamo adesso tra tutte le carte ce n'è una girata di faccia vedi quadri grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti